ciao anna come stai bene stavo pensando che potremmo vederci in centro a milano domani che ne dici mi sembra una buona idea potremmo vederci in un bar vicino al duomo alle 16 bene io verrò in autobus e poi prenderò la metro io prenderò il treno ottimo a domani mi scusi dov'è la biglietteria in fondo a destra buongiorno buongiorno come posso aiutarla vorrei un biglietto per milano certo quando vuole partire questa mattina il primo treno diretto disponibile c'è tra un'ora un freccia rossa parte alle 10 e arriva a milano centrale alle 12 quanto costa costa 35 euro in seconda classe non ha niente di più economico c'è un treno regionale alle 10 e 30 e arriva a milano alle 17 e 30 con cambio a bologna il biglietto costa 15 euro con tariffa ridotta no è troppo tardi prendo il freccia rossa vuole acquistare anche il biglietto di ritorno no va bene così prendo solo il biglietto di andata ecco a lei sono 35 euro il treno parte alle 10 dal binario 2 il treno alta velocità freccia rossa 95 40 di trenitalia proveniente da napoli centrale e diretto a milano centrale delle ore 10 è in arrivo al binario 2 ferma a firenze santa maria novella su questo treno è attivo il servizio di ristorazione la prima classe è in cova al treno attenzione allontanarsi dalla linea gialla attenzione per agevolare l'accesso ai treni invitiamo i viaggiatori in partenza a disporsi lungo tutto il marciapiede a permettere prima di salire la discesa dei viaggiatori in arrivo grazie per la collaborazione attenzione si rammenta che è vietato aprire le porte esterne dei treni e salire o scendere quando non sono completamente fermi scusi è questa la carrozza 3 sì bene ho il posto numero 20 ecco è questo grazie a tutti buongiorno è questa la biglietteria per gli autobus che vanno a milano sì mi dica pure mi servirebbe un biglietto per milano il primo autobus disponibile parte tra un'ora dallo stallo numero uno il biglietto viene 15 euro si devono fare dei cambi no è un autobus diretto il capolinea è milano san donato ok una volta arrivata dovrò prendere la metropolitana fino a milano duomo sì c'è una fermata della metro proprio vicino alla stazione degli autobus vorrei fare un biglietto di andata e ritorno quando vuole tornare domani in mattinata c'è un autobus che parte da milano alle 10 c'è un cambio da fare va bene sono un po preoccupata dei ritardi e di perdere la coincidenza no non si preoccupi l'autobus aspetta sempre la coincidenza anche se ci sono dei ritardi allora va bene grazie ecco a lei si ricordi di obliterare il biglietto prima di salire a bordo certo grazie 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 questa è la fermata della metro mi scusi sa dove la biglietteria c'è solo la biglietteria automatica in fondo prima dei tornelli sa che metro devo prendere per arrivare al duomo da questa stazione basta prendere la linea gialla direzione comasina la ringrazio acquista biglietto biglietto ordinario importo totale 2 euro numero di biglietti 1 conferma contanti grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti